ah lo specchio è uno di quegli oggetti che ritrovo spesso nella vita dei grandi artisti e così negli altri libri chatbot per leonardo gli specchi rappresentavano il segreto per decifrare le annotazioni dei suoi codici scritti al contrario per frida calo lo specchio ha garantito la salvezza specchiarsi osservarsi pur bloccata immobilizzata nel suo letto l'ha permesso di realizzare alcuni dei più grandi autoritratti con picasso e tutt'altra storia l'artista spagnolo a un certo punto della sua vita arriva a odiare gli specchi che come tele della sua anima gli permettevano di guardarsi e di vedere mentre cambiava inesorabilmente con il passare del tempo anche per questo motivo picasso sceglie senza remore di non possedere mai più uno specchio questa fobia non ha però di certo impedito l'artista di realizzare alcuni grandi capolavori dove compaiono proprio gli specchi perché nel 1932 dipinge ragazza di fronte allo specchio oggi conservato al moma di new york che rappresenta nello stile cubista uno dei suoi grandi amori marie teresa intenta proprio a specchiarsi quando è incinta il volto ha una doppia natura colei che si specchia all'apparenza è perfetta luminosa e felice ma nello specchio invece il volto diventa cupo i colori sono oscuri e la malinconia prende il sopravvento lo specchio seppur dipinto per picasso non può mentire osservarsi può essere fatale sopravvento lo specchio seppur dipinto per picasso non può mentire osservarsi può essere fatale sopravvento lo specchio sippur dipinto per picasso non può mentire osservarti